Buongiorno, auguri per tutti voi, per il Natale di ieri e diciamo che andiamo subito sui giornali perché sono due giorni che non escono e quindi la zuppa per due giorni non c'è stata ovviamente ma c'è stato il sito Nicola Porro.it in cui abbiamo commentato tutti i fatti che sono avvenuti in questo Natale. Ma il fatto più clamoroso che leggete oggi su tutti quanti i giornali che è successo a Natale è che si è dimesso, e dico io, per fortuna, per il bene del nostro paese, il ministro dell'istruzione Fioramonti. Ma poi andremo a vedere bene i motivi per i quali si è dimesso, anzi lo vediamo subito. Cioè Fioramonti sin dal primo giorno ha detto che se non avesse avuto 3 miliardi di euro il suo ministero lui si sarebbe dimesso, cosa che ha puntualmente fatto dopo che è stata approvata la legge finanziaria il 24-25 dicembre, appunto approvata anche dalla Camera, i soldi non c'erano, i 2 miliardi per il suo ministero e lui si dimette. Allora, il punto fondamentale è, diciamocela subito, sia a destra, sia a sinistra, sia a alto, in basso, se Fioramonti non si fosse dimesso dopo tutto quello che lui aveva detto noi gli avremmo fatto un mazzo così, noi che non amiamo questo governo quindi io, indipendentemente di tutto, dico che Fioramonti ha semplicemente fatto quello che aveva detto come, non so, Boris Johnson farà quello che ha detto per la Brexit come Trump ha fatto quello che ha detto in campagna elettorale e come molti fanno quello che hanno detto, tranne il Movimento 5 Stelle che grazie a Dio non fa tutto quello che ha detto, perché se facesse tutto quello che dice sarebbe un disastro questo paese i commenti su Fioramonti sono molteplici ma la cosa più divertente è quanto sono arrabbiati quelli del Movimento 5 Stelle perché il suo ministro si è dimesso e, in maniera molto elegante, tipica di quel movimento di malettari dicono, più prima che ti dimenti restituisci 70.000 euro che devi dare alla piattaforma Rousseau su questo ci sono due cose da dire la prima cosa è che Fioramonti è in larghissima compagnia con tanti altri deputati e senatori che non hanno pagato la piattaforma Rousseau l'abbiamo detto nelle zuppe di alcune settimane fa e quindi questa è la prima grande ipocrisia del Movimento 5 Stelle e poi che c'entra l'una cosa con l'altra cioè se lui è un birbaccione nei comportamenti che tiene con il Movimento 5 Stelle non c'è nessuna relazione sul fatto che lui si sia dimesso per motivi, diciamo, politici ma questo crea un gran problema nel governo ma, insomma, intanto per quanto riguarda il rimpasto Conte, secondo i giornali, non lo vuole fare proprio per non aprire alcun barco e nessuna, diciamo, incertezza nel governo per carità, quello sta lì attaccato con la colla che però un giorno o l'altro potrebbe mollarlo in realtà tutto va bene, diceva in realtà mica tanto se la prima novità è quella delle dimissioni del suo ministro della giustizia e quindi vorrà sostituirlo oggi i giornali fanno tante indiscrizioni c'è anche uno che viene intervistato ah, io nel Movimento 5 Stelle manco mi ricordo il nome ah, se me lo offrono io ci sono fantastico perché questi non vedono loro trovare un posto di lavoro con macchina blu probabile invece che, secondo le indiscrizioni dei giornali salga al posto di ministro dell'istituzione questa Lucia Azzolina che è stata professoressa, mi sembra, da qualche parte è venuta a Quarta Repubblica e che è già sottosegretario dell'istituzione non molto amata da Di Maio e company Franco oggi si interroga su Corriere della Sera se questo è l'ultimo casino del 2019 o è il primo casino del 2020 direi che la cosa mi sembra totalmente indifferente per le persone normali chi se ne frega, è il solito gran casino di questo governo che è sempre incasinato Travaglio dice, adesso il ministro Fioravonti si sentirà fico perché si è dimesso, ma non erano loro i moralisti quelli che dicevano che dovevano fare i politici quello che promettevano adesso lo prende in giro perché si sente fico perché si è dimesso e lì c'ha l'ottimo curriculum però, però adesso vedi Travaglio cosa trova? il ministro più assente è esteri da tutti quindi, insomma, il fuoco amico è il Movimento 5 Stelle che gli dice che lui deve restituire 70.000 il vero portavoce del Movimento 5 Stelle è l'uomo che costruisce la anedottica del Movimento 5 Stelle cioè Travaglio dice che lui è sempre stato assente beh, fantastico, Feltri che oggi dice è la prima volta che mi tocca dare ragione a uno del Movimento 5 Stelle perché fa quello che dice e quindi mi sta simpatico la concita di Gregorio oggi il suo tempo ragazzi, è impressionante riesce a dire quel bel sorriso quella moglie poliglotta le prime dieci righe sono da disgusto diabetico cioè è diventato un mito questo Fioramonti toc toc vi segnalo alcune cose che ha proposto Fioramonti perché dopo aver fatto la promessa e la sua che si sarebbe dimesso ne avete di tutti i colori ma io me ne ricordo soltanto una che oggi i giornali citano poco perché tutti citano le tasse sulle merendine che lui voleva tasse sulle merendine questa è l'idea di Fioramonti l'uomo che avrebbe il grande curriculum secondo la De Gregorio che si dimentica tante cose di Fioramonti l'uomo che alcuni giornali oggi lo ricordano aveva proposto il boicottaggio di Israele e dei prodotti israeliani nel silenzio totale perché solo boicottando Israele si raggiunge la pace in Medio Oriente questa è la grande idea del nostro ministro della distruzione l'uomo che aveva dato la giustificazione per legge una cosa mai vista se i ragazzi non fossero andati a scuola per manifestare ai Friday di Greta un'altra roba folle folle ma la cosa più folle è che questo qua che si è dimesso per il quale dovremmo essere felici ho fatto la premessa coerente con la sua cazzata iniziale ma felici sapete qual è? dice una bella Italia ha scritto Fioramonti che si è dimesso e siamo ancora qua a discutere come dice la concita di Gregorio che c'è un bel sorriso cioè nel linguaggio del politicamente corretto di questi di Repubblica eccetera si sono dimenticati che Fioramonti scrisse una bella Italia sarebbe un brunetta preso a manganellate dai carabinieri questo ha scritto il ministro dell'istituzione una bella Italia sarebbe brunetta preso a manganellate dai carabinieri uno così non dovrebbe fare manco il parlamentare e poi dicono che sono i populisti sono i cattivi sono la destra becera questo è il ministro che c'è il bel sorriso per concita di Gregorio come che cazzo di sorriso scrive una bella Italia sarebbe brunetta preso a manganellate dai carabinieri e noi ancora stiamo parlando di questo qua intervista a Trezzino fantastico un parlamentare del Movimento 5 Stelle perché vi segnalo che cosa dice e noi stiamo zitti e muti vabbè se la prende contro questo che si è dimesso e dice il giornalista ma insomma comunque in realtà il suo questo signore se n'è andato perché perché è cambiato anche un po' l'anima del partito dice il giornalista giustamente all'onorevole Trezzino e sapete cosa risponde nella sua nella sua risposta giuro su quelle della sera giuro la risposta del parlamentare Trezzino ma scopre adesso che si è cambiato il DNA del Movimento 5 Stelle punto di domanda e poi aggiunge sempre Trezzino e poi non è vero i valori sono sempre gli stessi cioè prima fa una domanda retorica accusando Fioramonti che si è accorto solo ora che è cambiato il Movimento 5 Stelle e poi ribadisce che i valori sono sempre uguali e noi zitti e muti e questi gli diamo pure seguito gli paghiamo lo stipendio gli diamo la macchina in blu ci scappelliamo quando vediamo i corazzieri li ricevano gli intervistiamo riescono a dire tutto il contrario di tutto quelli che vogliono bastonare Brunetta e quelli che vogliono bastonare il ministro che vuole bastonare Brunetta e lo vogliono bastonare perché non ha restritti i 70 mila dollari euro oppure questioni di questo vabbè comunque ragazzi questo è un governo ridicolo ed è quasi ridicolo che siamo noi a commentarlo folli che oggi dice che in realtà dietro le dimissioni di questo parlamentare e di questo ministro c'era un gran progetto e di fare un gruppo parlamentare sentite un po' voi l'idea è che il ministro dell'istruzione che critica la manovra finanziaria e se ne va dalla manovra finanziaria vuol fare un gruppo parlamentare studiato da tempo e tu immagini beh va via da questo governo per criticare il governo no di contiani cioè di persone che appoggiano Conte ragazzi vale tutto vale tutto nel frattempo Panebianco fa il suo bellissimo solito pezzo sulla Italia che è diventata una procura e mette insieme il caso Ilva e il caso della prescrizione e cita senza citare Quarta Repubblica l'offesa di Di Pietro quando si è sentito quell'intervista di Panebianco e nel frattempo vi segnalo che solo il messaggero si ricorda che entro il 30 di dicembre il tribunale deciderà se chiudere o meno l'alto forno cioè in questo paese da folli il tribunale deve decidere il tribunale del riesame se ha ragione la procura di Taranto che vuole chiudere l'alto forno ha chiesto la chiusura dell'alto forno e c'è un riesame al quale sono appese 10.000 famiglie se chiudere o no un alto forno che secondo gli stessi operai intervistati da Quarta Repubblica non è la causa nella follia più totale follia più totale e io vi chiedo a tutti quanti voi che avete un'idea precisa sulla morte delle due ragazze su Corso Francia ma qualcuno di voi ha mai visto due ragazze morte in una strada come quella di Corso Francia e colui che le ha uccise cioè questo ragazzo genovese nel senso figlio del regista genovese prendere le prime pagine di tutti i giornali ci sono mi sembra quattro morti ogni due settimane in Italia ci sono 3500 morti sulla strada 1500 sono pedoni quindi ce ne sono più di due al giorno di pedoni più di tre al giorno più di quattro al giorno come diceva il quotidiano nazionale scusatemi il dato ufficiale più di quattro persone morte al giorno in Italia sulla strada e qui ci sono le prime pagine c'è l'arresto del ragazzo che uccide queste due ragazze ovvio che l'ha uccise lui e fino a ieri scoprivamo sui giornali che era drogato poi oggi andiamo a vedere quello che dice il GIP e dice che non era drogato ovviamente non è meno grave quello che ha fatto ma sto cercando di dire che c'è una grande bolla mediatica per un solo motivo genovese uccide due ragazze da in prima pagina sui giornali perché figlio del regista genovese è il figlio non è il padre non è il regista è il figlio e il figlio ha questa colpa non tanto quella di aver ucciso due persone ma quella di essere il figlio di una persona importante e quindi noi ce lo sbraniamo ma ci sono altre 3299 morti di cui non ce ne fotte assolutamente nulla ce ne accorgiamo perché non sono morte queste due ragazze ma perché sono state uccise da una persona famosa questa è la logica dei nostri media e poi dicono è la rete è youtube è instagram è facebook è la merda della nuova tecnologia a essere tremenda no e secondo voi i quotidiani normali sono normali a mettere in prima pagina questa cosa solo perché è figlio di una persona famosa poi detto questo esagerando tutto quanto tra l'altro vi segnala una cosa soltanto per mettere i puntini sulle i che le due ragazze secondo il GIP hanno tenuto una hanno avuto un comportamento incautamente pericoloso queste sono passate con rosso con scarsa visibilità sotto la pioggia in una specie di autostrada cittadina che è Corso Francia e scavalcando il guard ride poi questo ragazzo già agli arresti domiciliari pagherà drammaticamente per quello che ha fatto le famiglie neanche voglio pensare quanto soffrono per le loro figlie morte ma due ragazze che si tengono la mano e passano per Corso Francia con il rosso e saltando il guard ride non mi sembra che si mettano nella condizione migliore per non morire giovani possiamo almeno dire questo senza essere sbranati io mi auguro non toglie nulla al dramma ma mi auguro che non si tengano comportamenti di questo tipo perché sono veramente rischiosi la manovra è approvata secondo il sole 24 ore mancano però ed è sempre la solita storia 177 decreti attuativi perché la manovra abbia effetto è l'Italia della burocrazia tu fai la legge ma perché abbia efficacia mancano i decreti attuativi il 60% dei decreti attuativi delle passate quattro finanziarie non sono stati ancora approvati per qualcuno che a Natale si volesse sentire male vi farei leggere su Repubblica l'intervista al presidente della commissione europea la baronessa von der Leyen Ursula dice solo banalità vorrei un'Europa che cresca di più e un'Europa più verde segnalerei alla baronessa che l'Europa è già il paese più verde che esiste nel mondo e che l'Europa conta sempre di meno nel mondo perché vuole un'Europa che conta di più e in questo momento si sta trattando in Libia e a trattare per la Libia non è l'Italia non è ahimè la Francia che ha combinato tanti casini sono Russia e Turchia che fino a prova contraria non sono ancora sotto il dominio della baronessa von der Leyen Italia oggi oggi scopre una cosa fantastica che il Bundestag e il Parlamento tedesco ha iniziato un'inchiesta sulla baronessa von der Leyen Frankenstein sapete perché? perché ha fatto troppe spese di consulezze quando era ministro della difesa fantastico sul foglio se la prende Giorgio Gandola perché dice sulla verità ma insomma questi fanno i liberisti e poi vogliono i soldi pubblici mentre il foglio la prende secondo me diversamente e su quello io non posso che essere d'accordo con gli amici del foglio ragazzi tutta questa vicenda del foglio non è l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali su cui potremo anche discutere e su cui sono anche favorevole ma è soltanto un giornale e in virtù di una merda di indagine diciamo per la quale il sospetto è l'anticamera della verità vogliamo vivere in un paese in cui il sospetto è l'anticamera della verità la battaglia per il foglio non è una battaglia per il foglio e neanche per un giornale filo governo come dice giustamente Gandola cazzo vedete i vostri amici che governano non fate questo piagnisteo ma è una battaglia contro un'Italia per cui basta il sospetto per finire in galera vale per la prescrizione e tante altre vicende fantastica il pezzo di Ferrara perché cita Boris Johnson che riesce a citare l'Iliade in greco e dice vedete i populisti non devono essere soltanto grezzi cioè quello che fino a ieri attaccavano Boris Johnson oggi è diventato un testimonia di Ferrara contro Salvini cioè per essere populisti bisogna sapere anche l'Iliade e dice e per questo chi sono i Boris Johnson cioè i populisti colti italiani le sardine e allora a quel punto capisci che Giuliano ha perso forse un po' diciamo qualche nessologico in questo suo ragionamento favoloso il titolo cubitale del Figaro e su quello finiamo il Figaro il giornale più famoso francese diciamo anche forse più autorevole superata soglia 100 e non si tratta delle pensioni ma del debito pubblico che è riuscito a portare Macron sopra quota 100% in Francia complimenti all'amico di Ferrara e di tutti i non populisti italiani ciao auguri ancora